Erano provatissimi non solo da un punto di vista proprio fisico perché è stata veramente dura lavorare in quelle condizioni, provatissimi anche da un punto di vista psicologico per le condizioni e per ciò che hanno trovato, però anche molto soddisfatti. È rientrato in Toscana il contingente che negli scorsi giorni ha operato nelle aree terremotate al confine tra Turchia e Siria, soccorritori stremati dalla fatica con la soddisfazione di aver preso parte ad una grande operazione di soccorso e di aver salvato delle vite, ma anche negli occhi la tragedia immane a cui hanno assistito. Sono state estratte due persone vive con operazioni molto complesse e sono durate tra le 8 e le 10 ore, due persone, una di 20 e una di 30 anni, fra l'altro mentre lo raccontavano ancora piangevano per l'emozione, hanno provato nell'estrarre queste persone vive da sotto le macerie con operazioni veramente molto difficili e peraltro insomma anche una sindrome da schiacciamento, quindi un intervento veramente molto complesso. Per quanto siano persone abituate a questo tipo di situazioni, evidentemente l'emozione, la paura, lo stress, tutto quanto anche per loro è stato molto forte, forse ora ci sarà forse addirittura bisogno di un aiuto psicologico per queste persone. Sì, abbiamo organizzato già nei prossimi giorni gli incontri con gli psicologi dell'azienda sanitaria perché devono rielaborare tutto quello che è accaduto. Io cito due esempi, fra i tanti che sono stati riferiti, il salvataggio di questa persona di 30 anni con accanto però la bimba morta di 4 che è rimasta per tutte queste ore accanto al padre e poi una famiglia tutti abbracciati di 4 persone tutti morti che hanno tolto da sotto le macerie.